Comune, primo banco di prova per la maggioranza a campo basso pressing del cantiere civico sul tema scuola. Ruta propone lo stop definitivo allo spostamento della Dovidio nell'area di Selva Piana. Vedremo chi rispetta i patti, dice a Telemolisse, su questo tema non c'è coltrona che tenda. Pizzone 2, Enel, presenta le integrazioni sulla contestata centrale sono ufficiali le modifiche al progetto di ampliamento. Entro tre giorni la pubblicazione del documento ma il coordinamento del no rilancia le critiche. Parte l'anno scolastico, sempre meno alunni, gli istituti riaprono in vista della via le elezioni fissato al 12 settembre. In Molise in 20 anni alunni passati da 50.000 a meno di 34.000. Il messaggio della direttrice regionale Chimisso, tutto pronto per la ripartenza. Autonomia differenziata si allarga il fronte del no. Partito Socialista in piazza per illustrare le ragioni del referendum. Interviene anche Confindustria con il vicepresidente Mauro Natale. Riforma pericolosa. Alle 18 il debutto casalingo del Campobasso. Prima gara di Lega Pro al Molinari per il Rosso Blu contro i Veneti del Legnago Salus. Dalle 17 diretta con Rosso Blu Gol sul nostro canale 18. Edizione delle 14. Buon pomeriggio. Ben ritrovati con la nostra informazione. La politica in apertura. Primo banco di prova a Campobasso per l'amministrazione guidata da Maria Luisa Forte. Il prossimo 9 settembre in aula una proposta di delibera consigliare a firma del leader di cantiere civico Pino Ruta con la quale viene proposto lo stop definito allo spostamento della scuola Dovidio nell'area di Selvapiana. È il primo punto dell'accordo sottoscritto con i progressisti e va subito esecutivo. Vedremo chi rispetta i patti su questo tema. Non c'è poltrona che tenga. Queste le dichiarazioni perentorie di Ruta. Sentiamo Pasquale Di Bello. Potrebbe finire prima ancora di essere iniziata la luna di miele tra la coalizione progressista e il cantiere civico al comune di Campobasso. L'amministrazione guidata da Maria Luisa Forte infatti il prossimo 9 settembre sarà chiamata al primo banco di prova per la maggioranza attualmente al governo della città. Argomento della verifica sarà quello più spinoso tra tutti il trasferimento degli alunni della scuola Dovidio dall'attuale plesso al centro di Campobasso ai locali fieristici di Selvapiana. Locali privi dei requisiti tecnici primo tra tutti la verifica sismica dice il leader del cantiere civico Pino Ruta e firmatario di una proposta di delibera consigliare la cui finalità è quella di fermare immediatamente il progetto di trasferimento vaticinato dall'ex amministrazione 5 Stelle. Impensabile dice Ruta al telefono il trasferimento di centinaia di bambini locali destinati all'esposizione e deposito di animali evocando un'immagine inquietante che più che con la scuola fa il paio con una stalla. Lasciando la zootecnia e tornando alla politica c'è da chiedersi come finirà al momento del voto considerando che della questione Selvapiana un progetto da circa 3 milioni e mezzo di euro il monocolore 5 Stelle passato aveva fatto un punto chiave della propria azione amministrativa. L'argomento ripreso in campagna elettorale aveva acceso gli animi proprio tra il cantiere civico e il Movimento 5 Stelle coinvolgendo la stessa Maria Luisa Forte che sin da allora aveva cercato una linea mediana. Su questo tema non ci sono poltrone che tengano. È il primo e fondamentale punto dell'accordo di programma sottoscritto tra il cantiere civico e la coalizione progressista ribadisce al telefono Pino Ruta che svela anche un retroscena. Nella fase delle trattative la prima bozza dell'accordo non prevedeva la questione Dovidio Selvapiana e mi sono rifiutato di firmarlo dice. Solo alla seconda bozza arrivata alle 10 di sera ho apposto la mia firma quando il tema della revisione di quella scelta sbagliata è stato incluso. Ci sono valide alternative dice sempre Ruta con locali che possono essere affittati acquistati o addirittura assegnati a titolo gratuito. Soprattutto ci sono 600 famiglie quelle della Dovidio che chiedono ascolto. Insomma la scuola inizierà il prossimo 12 settembre ma già il 9 potrebbe suonare la campanella di fine ricreazione. E sempre a proposito del comune di Campobasso la consigliera regionale del PD Alessandra Salvatore interviene sulla questione del salario minimo. Non posso che ringraziare l'amministrazione comunale e afferma che dopo Firenze e Napoli è il terzo capoluogo di regione a dare un segnale chiaro e forte rispetto ad una battaglia che di grande civiltà e di sostegno a tutte le persone che pur lavorando spesso non ricevono un corrispettivo idoneo a garantire loro un'esistenza libera e dignitosa. Questa misura aggiunge l'esponente del Partito Democratico in linea con la battaglia contro il lavoro povero promossa dalla segretaria del PD Ellie Schlein. Pizzone 2 ha presentato le integrazioni al progetto di ampliamento della centrale idroelettrica. Entro tre giorni la pubblicazione del documento sul sito del Ministero dell'Ambiente. Intanto il coordinamento che si batte per il no al piano critica la scelta di tenere segretato il quadro economico dell'opera e annuncia battaglia. Davide Gambardella. Le tanto attese integrazioni da parte di Enel al progetto Pizzone 2 sono state consegnate ieri. La trasmissione della documentazione per la procedura di valutazione di impatto ambientale al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata comunicata nel pomeriggio agli enti interessati. Un documento di sei pagine che sarà pubblicato nei prossimi tre giorni con avviso pubblico sul sito ministeriale. Le osservazioni di merito invece dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione. Dopo le modifiche presentate nel mese di gennaio in cui assicuravano tra l'altro una riduzione dei megawatt da 300 a 150 e la promessa di aree cantiere al di fuori dell'area parco, si attendono adesso le nuove modifiche apportate all'impianto idroelettrico di generazione e pompaggio, promesse che già ai tempi non rassicurarono gli attivisti del coordinamento Pizzone 2, che dalle modifiche presentate non si aspettano grandi novità. Nessuna delle criticità rilevate nel vecchio progetto risulterà superata, sostengono le anime del nuovo al piano Enel. Se i contenuti delle mitigazioni dovessero essere quelli annunciati è ovvio che dal nostro punto di vista non c'è la possibilità che vadano a superare nessuna delle criticità iniziali del progetto stesso. C'è da dire da subito che noi intanto troviamo depurevole questa scelta e questa richiesta da parte di Enel di voler tenere segregato il quadro economico generale, che è uno degli elementi fondamentali che può permettere anche di fare una valutazione complessiva tra costi e benefici dell'opera stessa. A fronte di una sospensione del progetto stesso, sostanzialmente che dovrebbe prevedere una rivisitazione complessiva di tutti i contenuti progettuali, in realtà una sospensione che va ben oltre i termini consentiti che erano appunto di 120 giorni, qui parliamo di 120 più 180 e in realtà verranno concessi solo 15 giorni alla data di pubblicazione per analizzare questa mola di documentazione enorme e per poter produrre delle osservazioni. Naturalmente il nostro gruppo tecnico, le associazioni che fanno parte del coordinamento, ma anche quelle adesso collegate, sono già state allertate e faranno un lavoro sicuramente molto intenso di analisi e produrremo sicuramente delle osservazioni puntuali in merito all'impatto, all'incompatibilità del progetto che, ripeto, a nostro avviso resterà purtroppo confermato anche con le modifiche apportate. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 9 sulla Statale 17 all'altezza di Castelpetroso. Un turista di 35 anni di Salerno che stava viaggiando in sella, la sua moto di grossa cilindrata in direzione Isernia finito contro una Fiat Punto guidata da un omanziano che si stava immettendo sulla strada principale. Secondo una prima ricostruzione il conducente della vettura avrebbe invaso la corsia mentre la moto era lanciata a forte velocità. Sulla ricostruzione di quanto accaduto stanno lavorando i carabinieri del comando provinciale di Isernia. Trasportato dal personale del 118 all'ospedale veneziale di Isernia, il centauro sarebbe grave ma non in pericolo di vita. L'acqua sta diventando un bene sempre più prezioso sulla cui disponibilità si gioca e si giocherà il futuro dell'agricoltura. Ne è convinta col Diretti Molise che alla fine di quest'estate con temperature di media altissime stila un bilancio sulle condizioni di disagio per la scarsità di risorse idriche in molti comuni della regione durante la stagione estiva. Francesco Di Giacomo Emergenza siccità in Molise con il rischio principale che riguarda l'agricoltura, condizione questa dettata da una carenza di riserve idriche che ha influenzato tutta l'estate per via anche del caldo estremo e della mancanza di piogge. Il Molise è da sempre considerata una regione ricca di risorse idriche ma i cambiamenti climatici caratterizzati da inverni sempre più miti che determinano una drastica diminuzione delle precipitazioni anche nevose indispensabili per il rifornimento delle falde acquifere e strati sempre più secche che generano siccità diffusa e non da ultima la dispersione dovuta spesso a reti colabrodo stanno mettendo in grave difficoltà il settore primario. A ciò si aggiunge il fatto che il Molise cede una parte considerevole delle proprie risorse idriche a regioni limitrofe come nel caso della diga di Occhito che sebbene si trovi per la gran parte sul territorio della nostra regione subisce il maggior prelievo da parte della Puglia dato che il Molise fruisce di soli 500.000 metri cubi di acqua la quale Puglia ha poi di recente chiesto anche di poter utilizzare parte dell'invaso del Liscione mediante la realizzazione di un adduttore. C'è poi la diga di Chiauci ubicata in territorio molisano ma la cui governanza è abruzzese come anche le acque molisane del Matese che vanno in Campania. Sarebbe utile e giusto quindi che i molisani potessero sapere quanti e quali ristori spettino al Molise. Questa in sintesi è la posizione presa da Coldiretti Molise la quale pur nella convinzione che l'acqua è un bene a cui dovrebbero poter accedere tutti ritiene che la politica debba poter gestire con il coinvolgimento dei diversi attori interessati la questione in modo da trarre un giusto ed equo beneficio a favore della collettività regionale. Da tempo Coldiretti sostiene anche che l'acqua in quanto elemento imprescindibile per lo sviluppo dell'agricoltura ma anche per il sostentamento delle comunità civili non possa essere venduta bensì dovrebbe essere individuata come forma compensativa qualcosa che vada a sostenere i costi di realizzazione di eventuali condotte e quelli per il funzionamento e la manutenzione delle stesse al fine di rendere efficienti da un punto di vista economico le gestioni degli enti preposti a garantire la distribuzione della risorsa idrica a partire dai consorsi di bonifica. Oltre a tali considerazioni Coldiretti Molise da anni insiste sulla necessità di affrontare il fenomeno siccità avendo una visione quanto più ampia possibile ricorrendo alla creazione di una rete di invasi artificiali di piccole dimensioni da realizzare su tutto il territorio utili alla raccolta di acqua piovana ferma oggi in Italia da appena l'undici per cento che conclude l'organizzazione potrebbe essere utilizzata oltre che in caso di incendi per usi civili per la produzione agricola e anche per generare energia pulita. Adesso parliamo di poste la CISL fa sapere che a partire da lunedì prossimo e fino a giovedì 12 si terranno le assemblee per sciogliere la riserva sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di poste italiane. Durante le riunioni potrebbero verificarsi disagi temporanei per gli utenti. Ci scusiamo anticipatamente con la clientela per i piccoli inconvenienti che potrebbero crearsi in queste occasioni afferma Antonio D'Alessandro segretario regionale della SLP CISL. Con l'inizio di settembre parte il nuovo anno scolastico anche se le lezioni riprenderanno il 12 settembre. In queste ore si rimette in moto la macchina e con il tradizionale messaggio di inizio anno la direttrice dell'ufficio scolastico regionale ha fatto il punto della situazione illustrando molte novità. Continua intanto a scendere il numero degli alunni. Sono meno di 34 mila. 20 anni fa erano più di 50 mila. Enzo Longo. La campanella tornerà a suonare tra meno di due settimane il prossimo 12 settembre ma la scuola molisana si rimette in moto già in queste ore. L'anno scolastico infatti parte ufficialmente a inizio mese per tutti gli adempimenti che precedono il ritorno sui banchi. Gli studenti quest'anno in regione saranno poco meno di 34 mila circa 700 in meno rispetto all'anno scorso. 20 anni fa erano 50 mila. Prosegue inesorabile dunque il calo degli iscritti, effetto inevitabile dello spopolamento e di una popolazione che invecchia sempre più. Proprio in occasione dell'avvio dell'anno scolastico la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Maria Chimisso nel suo messaggio si è soffermata sul lavoro svolto durante l'estate per consentire una ripartenza senza problemi. È una scuola che si innova, che guarda al futuro, che lavora tantissimo così come tantissimo ha lavorato in questo mese di agosto il personale dell'ufficio scolastico e degli ambiti territoriali di Campobasso e Sernia a cui vanno le mie più sincere congratulazioni e un grazie dovuto e voluto perché si è riusciti a fare in pochi ciò che altri uffici scolastici fanno essendo molti. Quindi abbiamo concluso con successo il concorso ordinario chiamato PNRR per essere semplici, per spiegare di cosa parliamo. Abbiamo concluso con successo il concorso per la valutazione dei direttori dei servizi amministrativi e quindi i DSGA e ogni scuola avrà al primo di settembre il suo dirigente e il suo DSGA, quindi la funzionalità dal punto di vista dell'amministrazione e della gestione garantita. Entrano in servizio 105 nuovi insegnanti con la possibilità che il numero salga a 175 in base alle emissioni in ruolo autorizzate dal Ministero. Oltre al personale docente verrà rafforzato anche l'organico tecnico amministrativo con l'assunzione di una settantina di nuovi collaboratori. Abbiamo concluso tutte le operazioni di conferimento delle supplenze al personale ATA e nei primissimi giorni di settembre concluderemo anche le operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente. Uno sforzo enorme per i nostri uffici che nuovamente ringrazio, ma anche la consapevolezza di aver lavorato bene e quindi di mettere le scuole nella condizione di poter svolgere il loro ruolo, che è un ruolo di rango costituzionale, di istruzione per l'appunto, ma anche di educazione con la massima serenità. E in merito al nuovo anno scolastico interviene il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo. Oggi osserva la scuola rischia di diventare un lusso per la maggioranza delle famiglie molisane. Si stimano infatti rincari quasi pari al 7% rispetto al 2023, con interi stipendi spesi per sostenere solo i costi di inizio anno. Chiediamo per questo alla Regione, aggiunge, di intervenire urgentemente con nuovi e incisivi strumenti di aiuto per l'acquisto di libri e materiale scolastico fino a coprire il 100% delle spese, incrementando i fondi e ampliando la cosiddetta platea dei beneficiari a tutte le famiglie molisane. Iniziativa del Partito Socialista Italiano Regionale in piazza a Campobasso per dialogare con i cittadini sul tema dell'autonomia differenziata. Aspettiamo fiduciosi la decisione della Corte di Cassazione sul quesito referendario che chiede l'abolizione della legge Calderoli, ha detto il segretario regionale Miniscalco, ma continuiamo ad informare la gente. Mentre si attende la decisione della Corte di Cassazione sul quesito referendario che chiede l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata, approvata già dal Parlamento, il PSI regionale è sceso in piazza a Campobasso per parlare con i cittadini. Siamo una parte fondamentale del fronte del no e abbiamo dato il nostro contributo, ha detto il segretario regionale del partito, Marcello Miniscalco. Come PSI diamo il nostro contributo su un tema che è fondamentale. Lo facciamo in attesa che la Corte decida sulla incostituzionalità o meno della legge Calderoli, come da ricorso delle regioni a guida centrosinistra in ultima della regione Campania e attendiamo fiduciosi di quello che ci dice la Corte, perché la Corte potrà o annullare la legge, quindi non c'è più il tema del contendere, il referendum non ci saranno più, oppure ci dirà se a decidere se l'Italia deve essere spacchettata, smembrata, devono essere i cittadini con il voto o il governo con la legge che hanno fatto. Noi continuiamo a fare la nostra parte e continuiamo a parlare con le donne e gli uomini affidandoci in maniera fiduciosa alla loro intelligenza e confidando nella saggezza della storia, perché gli italiani hanno combattuto delle guerre per arrivare all'unità d'Italia. Oggi questa legge porta la trasformazione dello Stato in forma regione da cooperativistico solidale a egoistico di tipo competitivo. Questa è la differenza e io mi auguro che i cittadini sappiano cogliere questa differenza, magari informandosi anche da soli e sappiano scegliere. E sul tema dell'autonomia differenziata interviene anche Confindustria che esprime preoccupazione. Il vicepresidente del Molise, Mauro Natale, elenca tutte le criticità della riforma e teme una decrescita per le regioni del Mezzogiorno. Sentiamo. La crescita di aree fragili come il Molise si realizza solo con strategie territoriali di grande respiro, mentre l'autonomia differenziata rischia di danneggiare anche le imprese. Così il vicepresidente di Confindustria Molise, Mauro Natale, commenta la riforma Calderoli. Occorre un paese unito e coeso, dove la burocrazia si al minimo sostiene Natale e che di Confindustria è anche vicepresidente nazionale della piccola industria. Nelle prossime settimane sarà presentato un documento in cui saranno evidenziate tutte le preoccupazioni della Confederazione italiana delle imprese. Noi siamo stati critici già dal titolo quinto della Costituzione sulla modifica che fu fatta nel 2001. Quindi chiaramente sul discorso dell'autonomia differenziata siamo molto preoccupati. non è un fatto di governo di destra o di governo di sinistra, ma noi andiamo a guardare chiaramente su quello che possa poi succedere soprattutto nel mezzogiorno d'Italia avendo uno sbilanciamento tra il nord e il sud del paese. Questa è la nostra posizione. Siamo molto preoccupati sui temi importanti, quali l'energia, quali l'ambiente, quali la scuola, l'istruzione, la sanità, sui temi importanti. Quindi chiaramente i LEP dovrebbero, quindi i livelli essenziali delle prestazioni dovrebbero essere uguali per tutte le regioni, più avere anche per le regioni più piccole anche di riequilibrare poi un fondo perequativo che possa aiutare le piccole regioni. Sì, vanno riequilibrati sicuramente i rapporti. È chiaro che delle regioni più grosse come la Campania possono avere meno problemi rispetto anche se loro sono lo stesso critici verso l'autonomia differenziata. Quindi pensando già a questo uno si rende conto di che cosa può essere poi l'autonomia differenziata calata nel Molise, con le competenze che chiaramente l'autonomia differenziata richiede. I vertici nazionali sono stati sentiti. Noi ci stiamo preparando con un documento che verrà finito per fine settembre, appunto per poter chiarire tutti i vari aspetti dell'autonomia differenziata, anche perché siamo preoccupati. Adesso si parla anche del referendum sull'autonomia differenziata. Noi non è che diciamo referendum sia o referendum no, ma siamo più portati a dare delle soluzioni su eventualmente si vada verso l'autonomia differenziata. Si è insediato oggi il nuovo comandante del reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Isernia, il Tenente Colonnello Massimo di Lena. Molisano, 51enne, nell'Arma dei Carabinieri dal 2000 di Lena, ha ricoperto diversi incarichi. Nell'Arma ha rilevato l'incarico dal Tenente Colonnello Cristian Trigiani. Nei prossimi giorni si presenterà alle altre autorità del posto e provinciali al proprio personale e attenderà alle altre iniziali incombenze di comando di reparto. Sitting di protesta dell'Associazione Malatessa di fronte alla sede RAI Molisana a Campobasso. Siamo stati censurati e limitati nella nostra libertà di espressione, dicono gli associati, dopo l'episodio della maglietta contestata durante la trasmissione di Uno Mattina a fine agosto. Intanto i Cinque Stelle in Parlamento hanno presentato un'interrogazione rivolta alla Commissione Vigilanza RAI per chiarire la vicenda. Sentiamo. Uno mattina mi sono svegliato, recita lo striscione che l'Associazione Malatessa ha attaccato di fronte alla sede RAI Molisana a Campobasso e che riassume tutto il significato del sit-in di protesta dei presenti. Una censura, così è stata interpretata, al diritto di espressione è un segnale che tale libertà, compresa quella di informazione, sia ormai compromessa dalla politica del governo attuale. Un sit-in molto partecipato, tra i presenti anche esponenti politici di vari movimenti insieme a cittadini di ogni età. L'antefatto è ormai noto. Un rappresentante dell'Associazione Malatessa il 26 agosto è stato contattato per prendere parte alla trasmissione di Uno Mattina. Oggetto dell'intervista in diretta da Campobasso, il Festival Draw the Line, iniziativa artistica che dal 2015 porta street artist locali e non nel capoluogo regionale per abbellire angoli della città. La mattina del collegamento sorgono problemi. Il rappresentante di Malatesta ha un logo, un anquilone, sulla maglietta che richiama un progetto umanitario pro-palestina e gli viene chiesto di cambiare t-shirt. Dopo un attimo di incredulità per la richiesta, così spiegano dall'Associazione, visto che il logo riguarda un progetto artistico e non politico, l'intervista salta perché il rappresentante dell'Associazione Malatesta a questo punto la rifiuta, data l'intrasigenza della giornalista anche dopo le spiegazioni del significato del simbolo incriminato. Siamo stati censurati nella nostra libertà d'espressione, siamo preoccupati perché la TV di Stato, servizio pubblico, ha manifestato così tanto timore per i colori della bandiera di un popolo martoriato da 80 anni di guerra, si legge nel comunicato diffuso da Malatesta, che ha messo in chiaro che non rilascerà interviste a nessuno. Non avevamo nessuna intenzione di fare una manifestazione pro-palestina in quella sede, ma solo parlare della nostra iniziativa artistica e della nostra città, ribadiscono i soci, chiedendosi alla luce di quanto accaduto, quale clima si respiri in RAI e che tutela possono avere i giornalisti liberi, visto che la libertà di stampa è sempre più compromessa. Intanto, molte sono state le manifestazioni di solidarietà da vari fronti politici. il 5 Stelle alla Regione Angelo Primiani fa sapere che il loro portavoce in Parlamento hanno presentato una interrogazione rivolta alla Commissione Vigilanzarai per chiarire la vicenda. Si chiude questa sera la rinola rassegna itinerante della Fondazione Molise Cultura tra antiche mura che, oltre ad aver fatto tappa nel centro frentano, ha proposto musica e teatro durante l'estate anche a Pietrabondante, Altilia e Trivento. L'ultimo appuntamento avrà come protagonista il maestro Vince Tempera con un concerto che va da Fellini a Tarantino. La musica, le storie e le leggende del cinema italiano raccontate e suonate dal vivo. Appuntamento alle 21 a Palazzo Ducale. Una tradizione sentita con le torto da tutti gli abitanti del paese è la festa patronale dedicata a San Giovanni Battista ed è stata seguita dalla comunità con fede e devozione. dapprima la celebrazione eucaristica, seguita poi dalla processione. Dalila Catenaro. Con le torto rinnova la festa del Santo Patroni in onore a San Giovanni Battista, una solennità sentita dagli abitanti del paese che accolgono questo momento con fede e preghiera. Un'occasione anche per condividere l'identità e le radici del luogo. San Giovanni Battista, figlio di Elisabetta e Zaccaria, che nacque quando i suoi genitori erano giunti già ad una veneranda età. Fu proprio il padre del Santo, il sacerdote Zaccaria, che ricevette l'annuncio da parte di un angelo del Signore mentre si trovava nel Tempio di Gerusalemme. Giovanni fu anche colui che battezzò Gesù nel fiume Giordano, il suo precursore. La celebrazione in occasione della festa patronale è stata ufficiata da Don Angelo Castelli, insieme a Don Luigi Mastro Domenico, Don Fernando Manna e Don Pio di Rosario. Nella sua omelia, Don Angelo ha ricordato che l'Evangelista Luca fu colui che narrò per primo l'incontro tra Giovanni e Gesù e ci racconta la visita di Maria alla cugina Elisabetta quando entrambe erano gravide. Nel momento in cui le due donne si abbracciarono, condividendo la Letizia nel rivedersi, Giovanni nel grembo della madre, fece un sussulto, segno evidente della gioia. Questo fu un momento di meraviglia. Perché, come ha ricordato Don Angelo, anche a noi è capitata la fortuna nella vita di incontrare delle persone che ci hanno portato Gesù. Sono tante le testimonianze, molti gli avvenimenti. Subito dopo la celebrazione eucaristica c'è stata la processione per le vie del paese. Tanti coloro che hanno partecipato a questo momento sentito dalla comunità. Il collega giornalista Simone Rocco e la sua incantevole fidanzata Chiara Tucci si sono uniti in matrimonio oggi in municipio a Campobasso a celebrare le nozze. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Francesco Pilone, a Simone Rocco, a Chiara Tucci, e alle loro rispettive famiglie, gli auguri più affettuosi di tutta Telemolise. E qui concludiamo il nostro telegiornale. Lasciamo la linea allo sport. Grazie per l'attenzione. A tutti voi un buon pomeriggio.